Il mio nome è Sara Bassot, una delle sette meraviglie, quando Serena ci ha dato questo nome dobbiamo ancora convivere, elaborare il rossore, però iniziamo ad accettare, anche perché è specchio di tutte le meraviglie, le donne meravigliose che ci sono al mondo e degli uomini che grazie a qualche intelligenza superiore veramente si stanno aprendo anche a questo nostro mondo, che è quello femminile, e noi con loro. Come è nata, magari vi dico io un attimo da dove viene questa idea del genio femminile, già conoscevo queste altre meraviglie per altri corsi che organizzavo anche online, sono dei percorsi proprio di crescita personale, in cui utilizziamo anche delle tecniche che sono proprio strumenti, insomma, che ci sono a disposizione, ci vengono dati a disposizione per trasformare, per rilasciare, per cambiare. E l'anno scorso io scrivo, scrivo tanto, e sono sempre un po' alla ricerca di come scrivere meglio, anche se poi mi lascio ispirare. E mi sono imbattuta nel Viaggio dell'eroe, che è un libro proprio scritto per scrittori, cioè per scrivere bene o un film o una narrativa. E scoprendo, andando avanti, scopro il Viaggio dell'eroina, cioè della donna. Questa psicoterapeuta junghiana, Maureen Mardoch, chiedeva all'autore, e la donna fa anche lei il viaggio dell'eroe, cioè la chiamata, il rifiuto della chiamata, gli ostacoli, gli alleati, gli oppositori. E lui dice, no, la donna è già arrivata, non deve fare tutto questo viaggio. E lei ci è rimasta un po', ma non è vero, noi soffriamo, abbiamo delle tematiche nostre, com'è possibile sia già arrivata? Eh sì, perché non lo sa, non l'ha compreso. Quindi il viaggio dell'eroina è tutto un altro, e dopo vi spiegheremo. Ed è una comprensione, un viaggio all'interno, in realtà, non all'esterno. Ho fatto la chiamata anch'io a queste altre meraviglie, chiedendo chi voleva percorrere con me questo viaggio e l'abbiamo fatto sfociare nel genio femminile, cioè non è solo il viaggio dell'eroina, che è un po' diverso e anche solo orientato alle donne, ma è diventato, ecco, è sfociato in tante altre opere anche, volevamo anche rivolgere all'energia femminile, che è anche negli uomini. Quindi è cambiato e ci abbiamo poi buttato dentro un bello strumento e ne apriamo la porta anche ad altri strumenti poi per aiutarci a fare questo viaggio, proprio per sostenerci. E qui passo la parola a un'altra settima meraviglia. Sono Virna e sono collega di Sara. Io stavo facendo spudoratamente marketing perché il genio femminile è anche un libro che potete acquistare oggi durante i nostri workshop o anche domani, oppure al nostro stand, o che potete trovare anche come ebook. Che cosa penso che mi abbia dato questo viaggio? Ecco, quello voglio dirvi, così capite meglio di che cosa parla. Parla di equilibrio. Io apprezzo molto la dottoressa Trevisan che è uscita, una grandissima donna, una grandissima naturopata, lei ha detto una cosa bellissima. Ha detto guarigione a 360 gradi. Noi non siamo medici, parliamo di integrazione e di benessere. Benessere a 360 gradi significa equilibrio. Noi abbiamo tutti e tanti strumenti o tante frecce nell'arco, visto che alcune di noi tirano con l'arco, ma la verità è che ogni strumento deve essere messo al servizio dalla persona che lo incontra del proprio equilibrio. E per trovare un proprio equilibrio questo eroe e questa eroina si devono incontrare. Quindi il lato maschile, sia che siate uomini sia che siate donne, non importa, i vostri aspetti maschili e femminili devono trovare un incontro. Noi abbiamo preso dalla Mardoc l'idea del matrimonio sacro fra la donna saggia e l'uomo con il cuore. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi, e io in particolare, facendo questo viaggio ci siamo dovute guardare dentro. Abbiamo dovuto valutare quanto erano in equilibrio in noi questi aspetti. E nel creare un prodotto che mettesse a vostro servizio la nostra lettura, la nostra interpretazione e le tecniche energetiche, abbiamo anche cercato di far incontrare prima di tutto in noi maschile e femminile. EFT, che poi Domizia vi spiegherà, è spiegato nel testo, nel lavoro e anche negli workshop, è una tecnica che ci ha permesso di riequilibrare questi aspetti, di vedere quanto avevamo cavalcato magari un'onda maschile, perché abbiamo rifiutato un'idea femminile che non sentivamo nostra per svariati motivi. E facendo questo, spesso non abbiamo preso solo il buono del maschile, ma anche quelle caratteristiche tiranniche o esagerate o di genere soverchiante il femminile. E comunque sia, devo ammettere che la mia idea è che alcune qualità sono prettamente maschili o del maschile interiore. Alcune qualità sono prettamente femminili o del femminile interiore di ognuno. Quando noi sposiamo solo una di queste parti, finiamo in disequilibrio. E quando finiamo in disequilibrio, beh, ci sono tante vie, non ce n'è una. Io dalla sciamanesima hawaiano ho imparato che è buono ciò che è buono per voi. Quindi, ciò che è efficace, ma per scoprire se è efficace cosa fare? Provarlo, provate EFT con noi oggi, domani e vedete se vi piace. Grazie Virna. Ciao, io sono Domizia Parri. E come appunto diceva Virna, vi voglio spiegare esattamente di cosa si tratta questa tecnica EFT, come è fatta e come funziona. EFT è la tecnica che ci accomuna e l'abbiamo usata appunto nel libro come strumento e la useremo nel workshop di oggi, mentre nel workshop di domani sarà un po' diverso. Useremo delle tecniche più corporee, creative, non sarà incentrata su EFT come oggi. Invece oggi ci atterremo a questo. Ma di cosa si tratta? È una tecnica che viene definita psicologia energetica, fa parte del campo della psicologia energetica e deriva dall'agopuntura. È nata nel 1980 e poi si è inizialmente sviluppata, grazie a questo psicologo americano che l'ha scoperta, in Southfield Therapy, cioè terapia del campo del pensiero, e poi si è evoluta in EFT. Praticamente questo dottor Calla, anche la scoperta, ha avuto un lampo di geni. Un giorno aveva una paziente che aveva dei grossi problemi con una fobia e siccome si interessava lui stesso di agopuntura e terapie orientali, le ha chiesto, per alleviare il suo senso di mal di stomaco causato dalla fobia, di picchiettare uno dei punti connessi al meridiano dello stomaco. Anziché piantarci un ago, perché naturalmente né lui né la paziente erano in grado di farlo. Questo le ha dato immediatamente sollievo, ma un tale sollievo che non solo le ha passato il mal di stomaco, ma che è andata, lei aveva la fobia dell'acqua, si è alzata, è corsa fuori, è andata verso la piscina, ha iniziato a spruzzarsi con l'acqua, mentre fino a quel momento, per tre mesi, il dottore non era nemmeno riuscito a farla avvicinare, ma neanche al bordo della piscina. E quindi l'illuminazione è stata, non solo le ha fatto passare il mal di stomaco, ma le ha riequilibrato l'emozione, l'emozione negativa che questa fobia le causava. E quindi ha messo a punto tutta una serie di picchiettamenti sui vari meridiani energetici. I punti dell'agopuntura sono più di 200, il dottor Callan l'ha ristretto a, non lo so, un ottantino forse. E poi in seguito Gary Craig, che ha effettivamente creato EFT, ha deciso di ridurlo ancora a 15 punti. Ora noi ne usiamo da 8 a 15, a seconda delle varie tecniche che applichiamo, perché alcune di noi vengono da una scuola, altri da un'altra. E quindi è una tecnica alla fine molto snellita, molto facile da applicare, che comporta semplicemente picchiettare su questi da 8 a 15 punti, e chiunque può impararla tranquillamente e applicarla all'occorrenza a casa propria, che è una cosa bellissima. E ha delle potenzialità infinite, secondo me e secondo tutti noi e tanta altra gente a questo mondo, ha delle potenzialità smisurate appunto, non solo nel campo appunto dei sintomi fisici o delle emozioni, ma la guarigione, fra virgolette, che scaturisce da questo riequilibrare, al di là di quello che uno si può aspettare quando inizia questo percorso, ecco. E quindi spero di avervi dato una breve panoramica della tecnica e passo la parola alla nostra Laura. Buongiorno, io sono Laura Bersellini. In questi, oggi nel nostro workshop di oggi pomeriggio e domani, io, come del resto anche nel libro, ho trattato la parte del riconnettersi al femminile. È una delle parti centrali appunto di questo nostro viaggio circolare. Parlavamo appunto prima del femminile e del maschile e spesso in questi giorni mi è stato domandato ma questo vostro percorso, questo vostro, in questo caso, libro o e-book o workshop sono appuntamenti dedicati solo alle donne? E io ho risposto istintivamente no, non sono dedicati esclusivamente alle donne. Nasce come un percorso fatto da donne, questo è evidente, però abbiamo proprio cercato, trasformandolo anche attraverso FT e con il nostro sentire, di proprio portare l'attenzione sull'energia femminile e come diceva Sara, che è anche Virna, proprio parlare di energia femminile, non di donna o uomo, perché l'energia femminile, come sappiamo, appartiene a entrambi i generi, cioè sia uomo che donna. Quindi è evidente che c'è un'attenzione particolare nel nostro lavoro per le emozioni legate alla donna, ma secondo me possono, anzi secondo noi, possono essere altrettanto interessanti anche se lette e interpretate e vissute anche da un uomo. Per quanto mi riguarda, ne parlavo proprio con le mie sorelle d'anima, i feedback che sto ricevendo sono da parte di uomini, cioè persone, uomini che mi scrivono ah, ho letto il libro, è interessante e quando gli domando perché è interessante, mi rispondono beh, prima di tutto perché in questo modo sto imparando a capire, comprendere, gestire la donna. Ma gestire, apro una parentesi, è come sapete un termine molto maschile, di energia maschile perché è l'uomo appunto che ha bisogno di gestire, di avere sotto controllo. E questo mi sta rendendo molto felice perché in qualche modo sta arrivando anche all'uomo col cuore, no? Come dicevi tu. Il mio desiderio, il nostro desiderio è che arrivi anche oltre, nel senso che come sappiamo l'energia femminile dell'uomo va evidentemente un po' accompagnata, accolta e credo che in questo modo possa essere, almeno io me lo auguro, possa essere un buon inizio per tendersi la mano, quindi io accolgo in me stessa la mia energia femminile e allo stesso tempo riconosco anche nell'altro, che sia donna o che sia uomo, riconosco la sua, accogliendola. Un altro particolare che mi ha colpito appunto è un anno fa circa, ho lessi un articolo, un'intervista di un'attrice molto famosa, una delle, credo, delle dieci donne, una fra le dieci donne più belle al mondo, è un'italiana, e alla classica domanda che le fanno sempre è come vive il suo rapporto con la bellezza e lei ha dato una risposta che mi ha lasciato così, molto gioiosa, perché è stata una cosa che non mi aspettavo. Lei ha risposto, io vivo la mia, vabbè, la mia bellezza la vivo in maniera molto serena, molto naturale e di questo non devo ringraziare mia madre. E ancora i brividi, devo ringraziare mio padre, perché fin da piccola lui mi ha semplicemente detto che per lui ero la donna più bella del mondo e quindi ha vissuto il suo rapporto con la bellezza, con il corpo, con il suo essere femminile in maniera molto serena, perché suo padre, molto probabilmente con un'energia femminile accogliente, ha saputo riconoscere in lei questa bellezza. Io parlo di bellezza, ovviamente, mi capite, non è solo la bellezza estetica, chiaro, no? E questa cosa mi ha lasciato veramente tanta gioia e un po' anche così di stucco e no, lì per lì ho pensato sincero, il primo pensiero è stato se anche mio padre mi avesse detto una cosa del genere, io, cioè, chiudete gli occhi e provate a pensare se vostro padre vi avesse mai detto una cosa del genere, la mia vita sarebbe stata sotto quell'aspetto, questo sicuramente con una marcia in più, a me non l'ha detto, mi auguro che a voi l'abbia detto, a me l'hanno detto ma me l'hanno detto altre persone, ma non è la stessa cosa. Quindi questo, non so se volete dire qualcosa anche voi riguardo a questo, in realtà il percorso, il progetto, il libro si rivolge a entrambi i generi, quindi con la speranza che sia anzi proprio un modo per farli incontrare anche nella lettura e non solo, e anche i papà, certo, sì, 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 anche i papà. Quindi tenendosi per mano come stiamo facendo noi, vedremo. Vi ringrazio. Io invece sono... Grazie, io sono Marzia Rabatti e la cosa che mi ha piaciuta tanto di questo progetto è proprio il fatto che essendo sette e avendo avuto ognuno esperienze diverse, come diceva Laura, magari lei ha avuto un padre in quel modo, io ne ho avuto un altro che forse ha dato troppa importanza alla bellezza e l'altra ha avuto una madre, come poi avrete modo di vedere dall'ebook in un certo modo. Quindi ognuno di noi ha vissuto esperienze diverse e ha potuto dare un'impronta diversa al lavoro che ha fatto poi con la parte del libro a cui... che aveva assegnato, che ha scelto. Io ho trattato un capitolo terzo e quarto che si intitolano la strada delle prove e il dono illusorio del successo. E non è stato a caso sicuramente che mi sono toccati questi capitoli perché facevano proprio parte del mio percorso nel momento e da un anno e mezzo che praticamente la mia vita si è rivoluzionata e quindi questi due capitoli sono stati molto importanti. Ci sono potuti essere molto utili per il mio percorso, per vivere il mio momento di cambiamento e sicuramente saranno indispensabili, saranno utili anche a ognuno di voi perché comunque di prove nella vita ne possiamo avere tutti da raccontare. A qualsiasi età possiamo avere iniziano molto presto perché le viviamo come prove come diceva anche la signora prima di me, i conflitti o comunque i traumi fanno parte della vita. Quindi avere uno strumento come FT che riesce a riequilibrare, a riportare a un'elaborazione diversa delle varie esperienze vissute aiuta proprio a riportare armonia e a riequilibrare quel rapporto tra il nostro maschile e il nostro femminile che poi ci fa essere delle persone più centrate che riescano ad affrontare qualsiasi cosa possa capitare nella vita con una forza e una sicurezza che è comunque la cosa che in quel momento ci serve per crescere e per andare avanti. Quindi è un percorso che dall'inizio alla fine, se avrete modo di almeno leggere l'ebook o venire ai due laboratori che proponiamo, fa parte della vita di ognuno, uomini, donne, indistintamente, qualsiasi età possiamo avere o qualsiasi esperienza stiamo vivendo in questo momento. A te passo la parola a Cinzia. Bene, ciao a tutti. Io mi chiamo Cinzia Calzolari e ho partecipato insieme a queste belle, bellissime donne, a questa esperienza e in particolare mi sono occupata e ho approfondito di più la parte che riguarda l'imparare a dire no, imparare a dire no a tutta una serie di cose che per ognuno è diversa, ognuna di noi trova il suo modo di dire no e le cose a cui vuole dire no a un certo punto del suo cammino e la fase successiva, l'aver detto di no, che è di scendere verso la parte oscura di sé però di scendere anche verso la propria parte divina. Quindi queste sono le due parti che vi aiuterò a esplorare durante i due workshop e in questo momento mi preme dirvi una cosa molto importante che questo lavoro di riscoperta di qualcosa che c'è già dentro di noi come diceva Sara prima no, c'è già tutto dentro di noi semplicemente spesso è inconsapevole oppure è mascherato da convinzioni, da modi di vivere quindi questa fase di riscoperta così come la fase di armonizzazione che fa sì che tutto questo si integri in una maniera armonica sono fasi cicliche cioè non è che possiamo dire che a un certo punto il nostro percorso di riscoperta del femminile di armonizzazione del femminile di integrazione del maschile sono finiti ok, col mio femminile ho finito col mio maschile ho finito no non è un percorso lineare dove mi fisso un obiettivo e percorro una serie di passi uno dopo l'altro in una linea retta e arrivo a raggiungere quell'obiettivo e posso scrivere la parola fine si tratta di una cosa diversa da questa si tratta di un percorso con una forma femminile la forma della spirale, del cerchio un percorso che continua su diversi livelli di consapevolezza su diversi livelli di profondità magari in ogni fase della nostra vita ci sono aspetti diciamo così più importanti e altri meno quindi fra le dieci tappe del percorso alcune ci toccano di più in alcuni momenti e alcune ci toccano di più in altri però si tratta di un percorso circolare questa è la mia esperienza e penso che sia molto anche l'esperienza di tutti noi ritrovarsi l'estate scorsa perché non stiamo parlando di tanto tempo fa a rileggere e approfondire il viaggio dell'eroina ritrovarsi a pensare cosa dire in un webinar di un'ora ritrovarsi a scrivere le pagine di un ebook è stato un inizio del percorso ora questo percorso sta continuando e mi accorgo che tutte le volte che rileggo l'ebook o dei pezzi riesco ad approfondire delle parti di me ad esserne più consapevole mi aiuta a veramente conoscere meglio e ricordare e rivedere il percorso che ho già fatto che non si perde non è una spirale che gira su se stessa cioè non è un cerchio non è un anello di ciclismo che giro sempre e ritrovo lo stesso punto salgo nel frattempo o comunque prendo una direzione che è diversa c'è una progressione ma c'è anche sempre un rincontrare alcuni temi che sono veramente fanno parte del nostro essere del nostro crescere del nostro camminare sia che siamo uomini sia che siamo donne quindi questo concetto mi premeva offrirvelo come conclusione diciamo così che non è l'ultima conclusione ce ne sarà un'altra vi ringrazio come abbiamo sentito si chiude un cerchio ma se ne riapre un altro per quello abbiamo deciso appunto che riprendo la parola io perché non c'è fine il cerchio lo conoscete bene quindi questo riprendere la parola è da un certo punto di vista proprio un invito anche a conoscerci meglio perché ognuna di noi ha un'energia sua propria difficile da definire energie forse non hanno etichette non hanno parole ma si sentono si percepiscono ma si percepiscono non è l'interazione quindi e averne sette ce ne manca una ma la integherei si ok l'accoglieremo Claudia Buri la settima meraviglia che oggi non è presente fisicamente ma è con noi e ha anche lei condotto una fase di queste dieci che è la risanare proprio la ferita del maschile quello che dopo aver visto che non è proprio la via del femminile è un po' azzoppato si trova impotente si trova si sente inutile quella fase lì è condotta da Claudia Buri e la riprenderemo appunto l'integreremo adesso ce l'ho fatta anche nei nostri workshop e poi si conclude integrando proprio l'energia maschile e femminile con la decima fase i due workshop sono diversi oggi quello di pomeriggio sarà elaborato o aiutato accompagnato dalla tecnica energetica FET quello di domani è appunto molto più creativo l'abbiamo già detto ma lo voglio ricordare che sono due diversi fattibili entrambi perché sicuramente porta a galla altri aspetti differenti aspetti vogliamo sporcarci le mani in questo percorso come l'abbiamo fatto noi ci siamo messi in gioco come una sì come toccare la terra proprio la terra ci si sporca ma è per lavorarla per darle ossigeno per aiutarla ad accogliere la nuova vita che è il seme senza una terra pronta un po' smossa forse forse quel semino non riesce neanche a dare il suo frutto a dare proprio quello che è portato a dare portato ad essere quindi vi invito a sporcarvi le mani con noi a giocare con noi perché comunque vorremmo mantenere un senso di leggerezza pur entrando anche nella profondità di noi ringrazio ancora tutte queste bellissime energie e anche Mariella e Serena che hanno permesso questo grazie a voi di essere qua